Ancora emergenza idrica a Vittoria, cittadini in fila alla Fontana della Pace per fare scorte d'acqua o lavore ai panni. L'associazione Reset propone alcune soluzioni. Dura presa di posizione da parte di Forza Italia a Scicli, in merito alla programmazione estiva, si registra un drastico nulla di fatto. Il turismo ne risentirà. Prime settimane di forte caldo e già fin troppi incendi si sono registrati sul territorio ebleo. Col diretti lancia l'SOS per aziende agricole e allevamenti. Piccoli giornalisti in erba all'istituto comprensivo Antonio Amore di Pozzallo, 27 giovani con tanta voglia di verità alle prese con il PON in giornalismo. Ben trovati con l'informazione di Canale 74. L'avete sentito dai titoli, continua l'emergenza idrica a Vittoria. Sono sempre di più infatti le persone che quotidianamente si recano alla Fontana della Pace per lavare i propri indumenti o far scorta d'acqua. L'associazione Reset avanza diverse proposte e chiede un incontro urgente con la Commissione Prefettizia. Vedete. Difficile capire che cosa significhi veramente rimanere a secco in casa con figli e 40 gradi di temperatura se questa esperienza non si vive direttamente in prima persona. E' quanto purtroppo stanno vivendo in questi giorni decine di famiglie di Vittoria che fanno i conti con una crisi idrica ormai ultra decennale ma di anno in anno sempre più grave. Intanto Fontana della Pace continua ad essere luogo di ritrovo per chi non ha altri modi per lavare i propri vestiti. C'è anche qualcuno che attrezzato di bidoni fa scorta di acqua per i prossimi giorni di carestia. E' questa la situazione drammatica che si continua a registrare a Vittoria dato che non tutti riescono a permettersi l'acqua dai privati. Gli altri o si attrezzano in questi modi o attendono le poche autobotti di emergenza che a quanto pare non riescono comunque a soddisfare l'intero fabbisogno cittadino. Alla base del disagio non solo la rete idrica fatiscente che certamente influisce in negativo sulla distribuzione nelle case dell'acqua ma anche un costante abbassamento della pressione che non riesce a sostenere la continua richiesta da parte delle utenze. Sicilia Acque S.p.A. sta applicando una riduzione di litri di erogazione nel comune di Vittoria non indifferente e per questo motivo in tanti tra partiti politici ed associazioni culturali cittadine sono sempre più convinti di una seria ed efficace mappatura dei pozzi nel tentativo di raggiungere l'autonomia idrica. Ad avanzare altre proposte l'associazione Reset che per voce di Alessandro Mugnas si dice pronta ad attrezzare dei mezzi con delle cisterne a norma e acqua potabile e dare un ulteriore sostegno alle uniche due autobotti d'emergenza soprattutto per chi è a secco da oltre 15 giorni. Tra le mille proposte a ferma Mugnas abbiamo trovato anche dei cittadini disposti con previo accordo a cedere dei pozzi di acqua potabile che magari si potrebbero utilizzare per il riempimento di autobotti senza togliere risorse all'impianto della Madonna della Salute che così facendo sottraggono litri di acqua all'impianto idrico e quindi alle utenze. Insomma le soluzioni tampone ci sarebbero. L'appello è quindi rivolto come al solito alla tripice prefettizia affinché si attivi anche tramite un incontro con le associazioni, i movimenti e i cittadini così come aveva già avanzato l'ex commissario prefettizio Dionisi lo scorso aprile proposte che però fu rigettata dai colleghi e che fu una delle cause dell'allontanamento volontario dall'ex commissario. E restiamo in territorio Iparino, via Pelbiscito, a Scoglitti, ancora transennata e quindi impradicabile per oltre 30 famiglie che non possono accedere alle proprie abitazioni. La strada è stata chiusa ben 5 mesi fa a causa di un'ordinanza del Comune che ne vietava l'accesso per dei lavori abusivi realizzati nello scantinato di una palazzina della zona. Oltre l'immobile in questione, l'ordinanza di Sgombero ha interessato anche famiglie di palazzine adiacenti che ad oggi non possono più far rientro nelle proprie abitazioni per lo più di villeggiatura. Toccherebbe proprio al Comune seguire i lavori di ripristino dello stabile ma attualmente nulla è stato fatto. Andiamo avanti e ci spostiamo a Scicli dove Forza Italia si fa portavoce delle segnalazioni ricevute dagli operatori del settore turistico criticando l'offerta turistica appunto che lascerebbe molto a desiderare con un calo di presenze sul territorio e anche nelle borgate che risultano abbandonate a se stesse. Sentiamo. Flop turismo e scarsa attenzione verso le borgate. Forza Italia Giovani e Forza Italia Scicli si fa portavoce delle segnalazioni ricevute dagli operatori del settore turistico criticando l'offerta elaborata dall'ex maggioranza e che lascerebbe molto a desiderare con un piano spiagge inesistente programmazione eventi assente, pulizia latitante e servizi zero. E dati alla mano appare evidente che qualcosa non funziona come dimostra anche il calo delle presenze turistiche nel weekend della festa in onore della Madonna delle Milizie. Il nostro comunicato parte da una segnalazione da parte di numerosi cittadini che sono impegnati anche sul settore turistico sono proprietari di bed and break, faste di case vacanze che hanno rilevato una carenza e una prenotazione inferiore rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti. Ecco, hanno fatto questa segnalazione imputano tutto sul fatto che il Comune non fa niente per incentivare il turismo a Scicli e sicuramente in certi aspetti ci trova d'accordo. In primis perché noi vediamo le borgate completamente trascurate hanno specialmente in quest'ultima fase dove meriterebbero molta più attenzione sia di manutenzione sia di organizzazione di eventi che potrebbero intrattenere il turista in modo sicuramente migliore anche perché abbiamo già un centro storico ricco che non ha bisogno, a nostro avviso, quasi di niente basta l'iniziativa dei privati a soddisfare le esigenze del turista ma nelle borgate qualche cosa in più andrebbe fatta sicuramente. Se poi riuscissimo ad allungare il periodo dell'estivo e fare arrivare altra gente che è abituata a viaggiare anche nei periodi non necessariamente di luglio e agosto avremmo fatto una bella cosa per la città e sicuramente avremmo aiutato l'economia ciclitana e in particolare dei settori che in questo momento stanno soffrendo. Ancora a Scicli prosegue la stretta della polizia locale nei confronti di quanti sporcano il territorio e così fioccano multe a cittadini e a locali commerciali ma non si può ignorare che il comune stia vivendo un momento di emergenza ambientale. I dettagli nel servizio. Per fronteggiare l'emergenza rifiuti prosegue la stretta della polizia locale di Scicli nei confronti di quanti sporcano il territorio. Ieri mattina gli agenti hanno multato i responsabili di tre locali pubblici che avevano conferito sacchi di spazzatura in corrispondenza del Palazzo Rosso in Corso Garibaldi. Multati anche dei cittadini che non avevano fatto la raccolta differenziata in prossimità di Via Mormino Penna e del Centro Storico. Una guerra agli incivili a colpi di tolleranza zero sarà coadiuvata anche dall'installazione di diverse telecamere sul territorio e dall'entrata in servizio nei prossimi giorni delle guardie ambientali volontarie che collaboreranno nella repressione e prevenzione di questi fenomeni. Dal Palazzo Palle l'assessore Lino Carpino è consapevole che il territorio sciclitano sia sotto attacco come denunciano gli esponenti di opposizione. Troviamo rifiuti che vengono conferiti da comuni vicini e non. A titolo di esempio, afferma l'assessore, ultimamente sono stati trovati diversi sacchi di spazzatura che riportavano il bollino del comune di Rosolini ma riferisce anche che il comune non è rimasto fermo. Sono infatti state impartite numerose direttive, la ditta di raccolta e smaltimento rifiuti, alcune già ottemperate, altre rimandate, anche dal rallentamento dovuto allo stato di agitazione degli operai. E al quotidiano problema della lotta agli incivili si aggiunge anche quello molto grave del rinvenimento di rifiuti speciali sotterrati in un fondo agricolo in contrada Cuturi. Uno scavo creato artificialmente stesso circa 500 metri per una profondità media di 3 metri riempito per metà di un liquido rossastro e fortemente maleodorante. Un caso che ha portato all'apertura di un fascicolo da parte della Procura di Ragusa che sta indagando per cercare di individuare gli autori del reato colpevoli di disastro ambientale e accertare eventuali responsabilità penali del proprietario del fondo, un sessantenne residente a Scicli. Pare, dalle prime informazioni, che si tratti di rifiuti di origine animale con corposa presenza di candeggina. Si attendono comunque i risultati degli esami dei campioni prelevati dagli agenti della Polizia Provinciale e dall'ARPA di Ragusa. Cambiamo argomento. La Coldiretti Sicilia lancia l'allarme per i numerosi incendi che con l'arrivo del caldo interessano tutto il territorio, a rischio soprattutto aziende agricole e allevamenti. Con l'arrivo del grande caldo in Sicilia si aggrava l'emergenza incendi che minaccia pericolosamente aziende agricole e allevamenti. E l'allarme lanciato dalla Coldiretti Sicilia nel sottolineare che l'inverno piovosissimo ha lasciato ora il posto al fuoco che da qualche giorno con le alte temperature sta divampando a macchia di leopardo. Secondo Coldiretti Sicilia, il caldo torrido, la disorganizzazione e la delinquenza sono il feroce tridente alla base dei pericolosissimi incendi. Per l'organizzazione degli imprenditori agricoli bisogna agire subito con interventi di tutela e mezzi adeguati. E' una guerra che dobbiamo combattere insieme. Istituzioni, forze dell'ordine, organizzazioni e agricoltori che rappresentano i veri guardiani del territorio incrementando la dotazione di infrastrutture, scrive Coldiretti. La situazione di pericolo è anche dovuta alla mancata manutenzione del territorio. Aree con sterpaglie cresciute moltissimo stanno ora bruciando e come è avvenuto in varie zone il rischio è anche che le aziende agricole possano essere lambite dal fuoco. Serve dunque una forte azione per generare le risorse necessarie a far partire una concreta progettualità che rispetti il territorio originando approvvigionamenti idrici fondamentali per l'ecosistema nell'interesse di tutta la società e tutto questo mentre ancora è troppo forte il ricordo di quanto avvenuto negli anni scorsi. Animali arsivivi, aziende distrutte, fieno andato in fumo, un prezzo altissimo che gli imprenditori stanno ancora pagando conclude Coldiretti Sicilia. E ora una notizia scelta per il secondo anno consecutivo l'ex scuola comunale di Contrada Treppizza a Friggintini per ospitare il punto antincendio a servizio della Vesta Zona Rurale. Il presidio antincendio è pienamente attivo già dallo scorso 15 giugno e resterà aperto fino al 15 ottobre. Il personale sarà presente dalle 6 alle 22 tutti i giorni incluso i festivi. E la città di Ragusa deve poter contare su biglietti da visita migliori e più decorosi. E la denuncia del capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio Comunale di Ragusa Zara Federico. Non è infatti possibile che la zona centrale della rotatoria di via San Luigi sottolinea Federico sia regolarmente curata in quanto frutto della convenzione con una ditta privata mentre le quattro isole sparti traffico tutto attorno sono piene zeppe di serpaglie come se non facessero parte della stessa rotatoria. Si tratta conclude il consigliere d'opposizione di un problema che dura da mesi che è stato segnalato più volte che però evidentemente non è stato ritenuto meritevole di adeguata attenzione. E andiamo avanti e andiamo a Pozzallo dove è un'interessante iniziativa sta attualmente coinvolgendo diversi giovani di 9 e 10 anni dall'Istituto Antonio Amore infatti pronti ad uscire nuovi aspiranti giornalisti già con tanta voglia di verità. Guardate. La scuola non solo come luogo di istruzione sulle principali materie che tutti conosciamo ma ormai aperta a nuove discipline ed attività che in qualsiasi modo possano ampliare gli orizzonti educativi per i propri alunni è il senso dei pone tra questi di quello di giornalismo dove appunto piccoli giornalisti in erba tra i 9 e i 10 anni compiono i primi passi nel mondo dell'informazione un modo per scoprire il proprio territorio porsi domande e soprattutto allenare il proprio pensiero critico legato al mondo che li circonda obiettivo quindi quello di stimolare la curiosità e lo spirito di osservazione degli studenti saper individuare le notizie e leggere un quotidiano aumentare la voglia di informarsi contribuendo allo sviluppo di una personale capacità critica d'altronde il giornalismo è anche questo fornire concretezza autonomia autostima e capacità di linguaggio sia scritto che verbale i piccoli giornalisti in erba dell'Antonio Amore di Pozzallo sono quindi in questi giorni subito dopo la fine dell'anno scolastico rimasti in classe per l'intero arco del mese di giugno un'esperienza che tra lezioni didattiche scritti in aula di informatica e simulazioni di conduzione di un telegiornale gli ha anche dato modo di incontrare delle vere e proprie fonti di informazione come è stato il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna che ha incontrato i piccoli studenti e il capitano della compagnia dei carabinieri di Modica Francesco Ferrante al termine del proprio percorso i giovani alunni hanno anche redatto diversi testi giornalistici e presentato tutto all'interno di un vero e proprio telegiornale condotto e curato da piccoli giornalisti con già tanta voglia di verità e un'altra iniziativa sempre legata ai progetti PON si è invece svolta a Ragusa un gruppo di alunni dell'istituto comprensivo Francesco Crispi ha infatti fatto visita alla Confcommercio provinciale ad accogliere i circa 40 ragazzi con i propri docenti il presidente provinciale Confcommercio Ragusa Gianluca Manenti insieme a tutto il suo staff il quale ha voluto ha avuto anche modo di affrontare i temi della cultura di impresa oltre che quelli strutturali concernenti la maggiore organizzazione di impresa sindacale qual è appunto Confcommercio abbiamo potuto appurare sottolinea il presidente Manenti come grande sia stata l'attenzione riservataci da tutti i ragazzi presenti quali si sono dimostrati molto interessati soprattutto ai meccanismi della cultura di impresa nell'ambito del sud-est la stessa che abbiamo cercato di illustrare con esempi semplici e calzanti abbiamo un'ultima notizia si è congedata oggi la dirigente del settore terzo finanze e contabilità Lucia Locastro che dopo più di 40 anni di servizio va in pensione per limiti di età negli ultimi dieci anni è stata la guida del settore finanziario dell'ex provincia di Ragusa dove è arrivata in mobilità nel 2009 dal comune di Vittoria e oggi con una festa di pensionamento che ha registrato anche la partecipazione di diversi ex dirigenti dell'ex provincia di Ragusa dell'ex presidente della provincia Franco Antoci e dell'ex sindaco di Vittoria Francesco Aiello si è voluta quindi accomiatare dall'ente dove ha chiuso la sua lunga carriera professionale ed è tutto non ci sono aggiornamenti grazie per averci seguito e arrivederci grazie a tutti